Nella giornata di ieri a Castellabate sono stati effettuati circa 251 tamponi antigienici ad alunni, personale docente e personale ATA delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Castellabate. Si è registrata la negatività di tutti i 251 tamponi processati. Intanto il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ha inviato la comunicazione della positività di sette con cittadini residenti. La loro catena dei contatti è stata già ricostruita e queste persone sono state già poste in isolamento. Per oggi 15 dicembre è previsto lo screening di massa dei bambini personale docente e personale ATA della scuola dell'infanzia, sempre a partire dalle ore 14. Ero già fiducioso ieri dei risultati, ha detto il sindaco di Castellabate Marco Rizzo. Oggi lo sono di più. Spero vivamente che anche lo screening di domani possa registrare numeri così incoraggianti, fiduciosi e ottimisti. Continuiamo a comportarci con la massima prudenza rispettando con rigore le regole anti-covid, evitare assembramenti, usare sempre le mascherine e mantenere il distanziamento interpersonale.